benvenuti in un podcast di voci in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo del nostro gioco in mondi affascinanti ed immaginari un podcast di appassionati curiosi e sognatori un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo giocando semplicemente a quello che ci piace io sono antonio benvenuti su gente di ruolo buonasera a tutti bentornati su gente di ruolo io sono antonio come sempre e ci aggiungiamo ad arrivare a quella che è secondo me una milestone di questa campagna ovvero fort calisco la terz'ultima tappa di questo viaggio verso skydagger keep che vede la legione uscire dall'isolamento che si era presa attraversando la la via delle foreste togliendosi dalla civiltà e adesso invece il momento di ritornare a confrontarsi con il mondo e come sta reagendo il mondo a questa guerra come è come sempre i giocatori di questa campagna dario buon suor giacomo a tutti e nilo ceneremo all'inferno prima o poi prima o poi non è detto oggi l'ultima volta abbiamo chiuso tutti quante le fasi di campagna e è arrivato il momento di far avanzare la nostra regione tappa obbligata da quella che era la foresta di taigon nella quale eravate eravate rintanati è fort calisco una grossa città fortificata da sempre che sostanzialmente delimita l'est della marca con quelle che poi sono invece le montagne che lo dividono da quelli che sono invece proprio i regni orientali e che sono quelli poi da cui legione viene è un posto di transito un posto sempre che è sempre stato militarmente importante prima di abbarbicarsi poi in quella che sono le montagne e via via il passo che invece è tenuto da skydagger keep questa è l'ultima grossa città di frontiera prima poi di cominciare a inerbicarsi sulle montagne e arrivare a quella che è la vostra meta il passo che dovrà fermare l'avanzata delle truppe del cinder king prima di scendere verso force calisco siamo rimasti in debito di un racconto da parte del lord keeper quindi facciamo un breve salto indietro siamo in viaggio abbiamo appena lasciato il campo della foresta e come sempre ultimamente leggiamo vi leggo il racconto dal diario personale di anselmo lord keeper il racconto l'ho fatto sugli spunti di giacomo che però poi ho pesantemente modificato giacomo in base a quello che poi è successo nell'ultima sessione mi ha cambiato e soprattutto dico a quello che sia solo l'ultima sessione secondo me visto dagli occhi di anselmo cambiava cambiava molto il significato di quello che in realtà tu mi avevi scritto come contenuto quindi in qualche modo ci sarà ma sarà una cosa diversa ok il diario è sempre su diario personale quindi firmato con la sua firma il suo nome di battesimo anselmo e recita così immaginatevelo scritto durante durante il transito probabilmente la prima notte di viaggio da quella che era l'accampamento che avevate fatto stabilmente nella foresta verso fort calisco sono stato perseguitato dalle facce delle persone che ho mandato morire in quel sotterraneo senza informazioni utili mandati senza speranza cercando chissà quale miracoloso aiuto sono stato ad un passo dal bartro marmalesciallo mi ha salvato mi ha dato una spinta mi ha svegliato dal sonno in cui dormivo sereno un'illusione un'illusione che coltivavo per me stesso e mi ha riportato nel liquido nell'incubo in cui siamo veramente e adesso sono qui e non posso non pensare a ripensare tre piccoli tomi dalle copertine rinforzate assicurate da un lucchetto tre tomi di simile dimensione fatture i diari del commander del marshal del quarter master i tomi che è dovere di ogni lord keeper custodire e far leggere ad ogni nuovo ufficiale e ad ognuno il proprio ricorda ancora come inizia quello del comandante scrive queste pagine il legionario amyans al ran il cui rango ormai è rilevante e grande apertura per un libro risalgono alla guerra degli dèi in cui la regione combatté a fianco di osingra chose the living god zemiati con gorwat chosen barton del dio kashnan e molti altri e si devono al tempo in cui servimmo il principe di ama chosen the shaper dio di or colui che dà forma colui che prese la regione ridotta uno sparuto numero divisa in bande contrastata al suo interno nei suoi confusi livelli dai maniscanchi ai soldati agli ufficiali prese la legione e le diene negli anni la forma che ancora oggi riconosciamo come un giardiniere che imposta con determinazione un arbusto con forza ma senza mai spezzarlo fino a dargli la forma che poi manterrà anche quando il giardiniere se ne sarà andato fece scrivere quei piccoli libercoli su cui ancora oggi ogni ufficiale giuri a fedeltà al suo ruolo e ognuno di quei libri sono raccontati gli oneri ma soprattutto i pesi e le responsabilità che ognuno dovrà portare e per cui non dovrà mai biasimare gli altri domandai al doge perché non ve ne fosse uno per il lore keeper e nella sua sapienza nella sua sapienza prescelto di shaper non poteva aver dimenticato questo ed il doge mi disse a suo tempo capirai purtroppo per lui mi sorrastimava l'ho capito solamente oggi non l'ho capito prima che il maresciallo avi mi aprisse gli occhi il libro su cui giro al lore keeper è l'interezza degli annali di questo si fa carico di amministrare l'informazione al meglio non è suo compito decidere cosa fare quello spetta al commander non è suo compito chi lo farà quello spetta al marshal non è suo compito dare a queste anime la possibilità di farcela questo spetta al quarter master pensavo di avere le mani pulite ho temuto di essere un assassino ora ho capito di essere solo uno dei quattro anelli che si sostengono per far quello che ha fatto e per farlo al minimo costo black lion avi andrei hanno quasi il doppio dei miei anni il tipo della mia esperienza ma non starà a me far l'anello debole a giorni arriveremo a calisco l'aria puzza ancora di cenere domani narrerò la regione le 14 giornate di come resistemmo nonostante tutto spero che questo di motivi a resistere sky dagger è sempre più vicino fine vantaggio di questo racconto che poi il lord keeper narrerà la regione è commander ce l'hai a portata ah non me lo ricordo più ok è più un dado a tutti i tiri di resistenza ci servirà magari mi sembra che fosse qualcosa tipo la legione stringe i denti una linea evocativa su questo tono però aspetta è solo per la prossima missione giusto esattamente sì sì si applica solo alla missione successiva ci servirà comunque è tanta roba tanta roba ok a fronte di questo racconto il viaggio prosegue veloce il tiro sul tempo che passa è andato bene quindi riuscite a muovervi agevolmente nonostante la foresta che però va via via ridiradandosi e quello che vi si apre davanti alla fine di questo viaggio è fort calisco una città dalla pianta più o meno circolare voi la vedete immaginatevi dall'alto di un profilo collinoso quindi qualche centinaio di metri più sopra la vedete a un chilometro due chilometri di fronte a voi lontana ma non persa nella nebbia la vedete circondata da quello che è un brulicare di figure che si muovono ordinate in plotoni piccoli quadrati e rettangoli che sembrano muoversi come in un formicaio però disegnato da un geometra intorno alla città quelli che sventolano sono i vessilli dei cavalieri neri di render e intorno alla città vedete è stato costruito un intero campo di assedio per per chiuderla per cingerla dalla città si levano si levano i fumi si levano quelli che sono le attività residue di quella che è evidentemente una città che si sta preparando a resistere a un lungo assedio all'infuori le truppe sono schierate sono ben disposte hanno settato il campo ma vedete che la situazione è ancora in evoluzione in fianco a voi in fianco alla legione c'è il chosen che dopo un'assenza di qualche giorno è ritornato a marciare con voi che di fianco ai carri della legione sta cavalcando un lupo alto circa due metri e trenta alla spalla al netto di questo non c'è molto altro da dire mandate probabilmente qualche veloce ricognizione per confermare quello che quello che vedete di fronte a voi fondamentalmente render è qui di persona ha portato il grosso del suo esercito parliamo di qualche migliaia di uomini non parliamo di decine di migliaia però parliamo di svariate migliaia vedete quelle che erano le sue fila che avete visto marciare su etan mark probabilmente si sta prendendo il tempo per chiudere la città per cingere un assedio che non sembra attualmente aver fretta di concludere quello che le vostre vedette riportano come indicazione più più preoccupante è il fatto che ci sia una fabbrica una carpenteria in in pieno sviluppo che sta costruendo quella che in realtà voi vedete già dalla posizione in cui siete un enorme torre d'assedio che sostanzialmente probabilmente da quello che è la pianta e da quello che allo sviluppo finora raggiunto sarà più alta delle torri stesse di calisco e quindi una volta portata addosso alle mura permetterà di prendere le torri e chi ha le torri alle mura e chi ha le mura alla città altre buone notizie sì la torre è abbastanza grande per farci salire gli earthless forse addirittura è spinta dagli earthless sì 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 è tirata ma giusto per darvi una dimensione della cosa titanica che stanno costruendo è praticamente una torre di babbelle su ruote questi giganti da tre metri in mezzo riescono a salirci dentro e dalle balconate probabilmente riescono senza grossi problemi a saltare o sulle mura o sulle torri questa cosa è in fabbricazione ed è evidentemente un qualcosa che va fermato andiamo direttamente alla missione primaria perché questa volta non c'è una fase di selezione di missione ce n'è una che è riuscire a fare un diversivo abbastanza importante per permettere alla regione di entrare con una sortita quindi il più velocemente possibile in fort calisco nonostante l'assedio ok se volete siete nella tenda di comando e il chiusena con voi mandor se vuoi farmi le domande di intel e inframmezzarle al dialogo siamo a questa fase mentre tu ci pensi andrei fa semplicemente notare che gli ricorda molto ettenmark questa visione dei quadrati vuol definirli uomini e un po' esagerare delle truppe del broken peccato che lì eravamo in intera legione adesso non più un'intera legione e svariati eserciti esatto perché vi porterà dietro proprio gli eserciti regolari di or di zemia che restava dell'esercito aldermark ci sarà anche una secondaria oppure facciamo solo la primaria questa volta c'è solamente la primaria ok perfetto quindi il maresciallo si può fare il conto degli uomini che ha a disposizione visto che ci siamo vi do anche come riferimento i reward di missione che sono ovviamente poter entrare in città ma non solo perché ovviamente è una missione d'assalto quindi almeno vi permette di ottenere morale più 3 di morale la pressione non aumenta meno 1 al tempo servirà tutta la morale visto le perdite che incorreremo immagino esatto andrei estranamente sì sì certo andrei estranamente a stemmi durante questa progettazione di missione beh allora direi che la domanda è quella sui due approcci quindi la scena è classico tavolo pieno di carte, mappe e appunti e le tre teste di comando che si scambiano opinione su cosa può servire, cosa può essere utile con che squadra andare eccetera eccetera e vedi te chi poi dà le informazioni ok beh le informazioni probabilmente in questo caso se la domanda sono i due approcci fattibili sono informazioni della vostra intelligence nel senso che probabilmente mandate avanti i vostri scout, mandati avanti loro con qualche uomo cominciate a guardare dal limitare dei boschi che poi vi lascerete alle spalle per scendere verso la pianura capire, misurare quella che è la disposizione delle forze e due approcci allora l'obiettivo è e resta la fabbrica dell'assedio quindi sostanzialmente una parte abbastanza lontana dalle mura che però per il nemico è estremamente importante nel senso che lì ci stanno costruendo le armi d'assedio è quindi qualcosa che li distrae fondamentalmente dal tenere la cerchia sulle mura ma che non possono permettersi di ignorare totalmente è un'area abbastanza dispersa, abbastanza grande al centro della quale fondamentalmente troneggia questa enorme torre d'assedio ci sono poi altre costruzioni minori stanno costruendo qualche trabocco ovviamente gli arieti eccetera eccetera però immaginatevi proprio una enorme zona artigianale cioè stanno tagliando alberi, scuojando, tagliando assi e cose del genere c'è molto personale umano in questa zona e vedete che appunto hanno proprio spostato il limitare del bosco Fort Calisco a ovest e a sud è circondata da boschi e vedete che sostanzialmente questa fabbrica ha arretrato la linea del bosco probabilmente di tipo un mezzo chilometro due approcci ragionevoli possono essere ovviamente quello di infiltrazione con il problema che vi richiede di permanere per molto tempo fino ad arrivare al vostro bersaglio l'opposto invece è la carica frontale quindi entrare dentro il più velocemente possibile in modo da non dare possibilità di reazione coordinata fare quello che dovete fare e schizzare fuori come siete entrati altra regola specifica di questa missione se avete un alchimista ottenete più un dado che non è il caso della vostra legione è obbligatorio usare cavalli cosa che si allinea col fatto che dovete effettivamente comunque percorrere molto spazio nell'avvicinarvi e nel fare la sortita che lo facciate in modo silenzioso che lo facciate proprio arrivando in carica e che non vuol dire suonare la fanfara ma semplicemente entrare il più velocemente il più duramente possibile per poi uscire non so se consideriamo Paxty come alchimista non penso non a livello di purtroppo da regolamento non lo possiamo fare sì 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 anche perché il più uno di alchimista in realtà c'entra col fatto che voi dovete proprio incendiare cose o fare esplodere cose e quindi sono non siamo sui tonici e gli alchemici che per adesso produce ok allora una volta ben chiare queste due vie d'azione Lion chiede semplicemente due cose una al maresciallo e cioè chi secondo lui sarebbe la squadra più adatta e si assicura col quarto amastro che la legione sia pronta per muoversi il più velocemente possibile ovviamente quello sarà lo specchio alla nostra distrazione immagino che sullo sfondo ci sarà la legione che si muove e corre in città i cavalli sono tutti sellati il blackshot è carico nelle borse dei cavalli ottimo non sottovaluteremo il nemico questa volta per quanto riguarda gli uomini sono riposati e determinati commander dipende da quale approccio vorrete seguire un aspetto del genere credo che sia folle parlare adesso mi fido del tuo istinto maresciallo e del capitano che metterai a capo della missione qualsiasi cosa potrebbe cambiare le carte in tavola o far deragliare i nostri piani tra gli uomini decidere sul momento come affrontarla e sia il chosen che fino a quel momento se ne stava silenzioso come sempre nuda e appollaiata su uno scrittoio si alza guarda la mappa e con la mano sostanzialmente sposta tutti quelli che erano i segnalini le pedine le cose e dice in questi termini non ce la farete mai scenderò in campo anch'io la mia riccia al naso render non si farà distrarre dal fatto che voi andiate a incendiare i suoi giocattoli sarà in condizione di dare ordini probabilmente ci ha già visto e sta facendo contropiani sui vostri piani Quartier Mastro fa un sorriso nervoso sotto la sua barba manda a Jordan per un attimo e le fa e i tuoi di piani ne saremo al corrente o ancora una volta la fede dovrà sostenerci in un tono accusatorio abbastanza blando stante la frase non coltivo molti piani non è nella mia indole però so come distrarre il grosso delle truppi adiacente alle mura ogni città assediata ha le sue ricchezze che userò nel modo di darvi il tempo per entrare per quel che riguarda render non ho grandi piani beh se non abbiamo piani veri e propri almeno non potrà prevederli lasciamo che il caos della battaglia e la forza della legione si guidino come dire un cenno del capo come per dire è un'approssimazione abbastanza corretta di quel che stavo pensando da per uscire si gira indietro e fa ditemi quando intendete non avere l'attacco così che almeno non partiremo in tempi diversi si alza l'angolo della bocca con un sorriso più di scherno che altro però Andrei fa ci rivediamo dentro le mure di Calisco e lo dice stranamente benigno fino adesso è sempre stato molto scettico verso questo chosen avveri mani in silenzio bene non credo ci sia altro da fare e si allontana dal campo va a prepararsi abbiamo altro da decidere rischia di essere mettere avanti un po' troppo le mani però il chosen ha accennato qualcosa di mettere fuoco ai giocattoli del render vogliamo solo entrare o vogliamo mettere fuoco ai giocattoli cosa vogliamo fare però quello è l'obiettivo della missione primaria nel senso distruggere la torre o comunque far saltare le armi da sé allora la missione primaria non è entrare in Calisco la missione primaria è fare come dire questa offensiva verso le le armi pesanti dell'assedio ok adesso finché voi fate questo il chosen terrà occupato render e questo sostanzialmente vi da un clock di tempo entro cui dovete fare la missione altrimenti ritirarvi se voi riuscite a fare la missione nel tempo in cui il chosen riesce a installare render allora vuol dire che la legione è fatta anche in tempo a rientrare dunque noi dobbiamo distruggere le armi da sedio barra la torre non sconfiggere tutto l'esercito nemico assolutamente no e avete il chosen che terrà come dire in stallo il il broken si considerate che comunque è uno scontro imparibile lo dico da gm giocatori il chosen vostro è un tier 4 render a rientrare 5 con potency 1000 che è un clock da 10 quando di ornate 1 è un clock da 8 quindi partirete svantaggiati e quei clock sostanzialmente vi faranno il timer di missione meccanicamente sui due approcci oltre ovviamente a ragionare sugli specialisti ragionate anche sul carico yes considerate che io come ho avvisato abbiamo cavalli e abbiamo anche blackshot visto che è un assalto probabilmente verranno le domande ma ve lo ve lo ve lo preannuncio così che non vi caricate di blackshot perché verrà di di loadout da quartier mastro ok non mi ricordo io la missione prossima già la sappiamo nel caso riuscissimo ad entrare a calisco allora se entrate in calisco si va in fase di campagna e poi generazione di missione nuove ah ok ok non erano ancora neanche state generate e ci sono tutti i tipi disponibili a calisco ok e non dovrai fare due giri di missione di fila se questa se era questo il fine della domanda io pensavo a chi a chi sarebbe toccato appunto eventualmente il prossimo giro a livello di specialisti ma sceglieremo quello che più ci ci sa comodo dovrebbero essere tutti pronti bene o male eh that's a very good question dipende tanto da come vogliamo giocarla a me piacerebbe però dipende anche da cosa se vi fa di giocarli rimettere in campo la Garossi di sicuro che ha il suo momento per brillare insomma ok però con la Garossi boh manderà Izarovna e ci può stare che è molto da assolto però come come squadra cioè bello a demolirgli le app ci facciamo una carica frontale appunto peccato che se mandi Izarovna non puoi dare il comando a Levi beh puoi però non mandi o se no mandiamo Seneca della Garossi però l'officer Seneca si può aggiungere è un medico eh lo so però sono entrambi di beh può giocarla a qualcun altro cioè per dire anche Garossi può giocarla a qualcun altro per dire ragazzi non so scusami a farla proprio per specialisti Evi Cecchino se la vogliamo fare militare si può fare militare beh nessuna è perché dicevo heavy officer la vedevo già già un po' in quel senso allora Garossi avrebbe il vantaggio di lead from the front è l'unico talento che ha per adesso non ha stress e lead from the front lei può cambiare nei tiri di gruppo la scala purga tanta roba anche perché anche perché avrete effettivamente numeri cioè i numeri potrebbero fluttuare molto nel senso che è un attimo che vi trovate 30 persone contro dobbiamo fare così allora questo è un assalto direi di usare i lions dato che sono anche sì sono anche i lions li avete anche armati di recente però sono quelli meglio equipaggiati per uccidere qualsiasi cosa dai facciamo team ti spacco la testa quindi Garossi Zarovna e lions e adesso diciamolo che però c'è da dire che Garossa e Zarovna possono giocarsi il riscatto vedremo vedremo la Albrecht è in come dire è momentaneamente adombrata Zarovna può yes tra l'altro addirittura 3 di Marshall dunque non è male Garossi per fare un'opera di assalto di gruppo effettivamente e qui vi chiedo giochiamo i lions sarebbe comodo giocare Kirish perché è soldier però c'è Gabridor cioè Kirish è fighissimo però c'è Gabridor e Clarinovic domanda Kirish ha qualcosa come soldier che Gabridor non avrebbe vediamo sì ha grit che è l'abilità speciale che gli permette di pushare a gratis davvero push a gratis il soldier è grip l'abilità speciale che è l'equivalente di aim anchor eccetera eccetera tu la spendi e fa un push e la cosa fantastica è che può fare se può accumulare gli usi del come dire del push e quindi ad esempio usare un'abilità per ottenere effetto e usare stress per avere il dado può avere entrambi gli effetti di push se paga entrambe I'm extremely uncertain cioè Kirish è più forte palesemente come opzione vedi vedi tu a me non dispiace vedere giocato Kirish che tira fuori le palle abbiamo sempre visto chiacchierare va bene va bene chiamo Kirish se è nero non dà fastidio perché dovrebbe darmi fastidio no lo so perché l'avevi usato un paio di volte no non è mio Kirish sono tutti della legione dunque mi sa che Kirish almeno una volta gli abbiamo dato voce praticamente tutti è comparso talmente tanto mi fa ridere perché adesso sono andati in missione con i lions che hanno evidentemente una red shirt che è quello di cui non si ricorda mai il nome e quindi praticamente nel tiro di ingaggio boom e è morto quello che vabbè non importa tanto sono sempre stati in quattro praticamente i lions ma poi si smaterializza ci siamo tutti sì ci siamo tutti ok siamo tutti sì siamo in quattro e allora ci siamo tutti vabbè siamo tutti qui sarà l'unico sopravvissuto quel rookie senza nome siamo già ok abbiamo abbiamo il setup degli specialisti allora marsciallo ok avete quindi specialisti squadra il comando va automaticamente all'officer e keep fatevi il load secondo me qui per quanto potete tenervi poi le linee aperte però dovreste secondo me già decidere una via preferenziale siamo sui cavalli ragazzi possiamo andare heavy e comunque essere veloci secondo me non so è una proposta sì io vado vado di heavy ok dai siamo di cattiveria quindi può stare siete sicuramente veloci l'unica cosa dicevo se volete essere anche silenziosi quello vi limita un po' sull'equipaggiamento sembra una squadra silenziosa se invece volete solamente essere veloci all'oraggio di di equip pesante e facciamo i buchi domanda il black shot che ce l'avremo ok perfetto domanda la scheda per il load normal fa scegliere tra fine shield oppure fine heavy weapon ma dato che noi abbiamo equipaggiato i lions calcolo che la fine heavy weapon ce l'abbiamo e scelgo il fine shield praticamente esattamente ok consideriamo che le schede dei lions abbiano equipaggiato a gratis un'arma fine c'è un spazio vuoto mi scrivo fine weapon così mi ricordo domanda ho pensato nel dettaglio così dettaglioso ma direi proprio di sì domanda ce l'hai come kicker che ho detto vogliamo usare il channel per un esplosivo o delle delle cose del genere durante la missione oppure vogliamo che qualcuno porta dell'olio per bruciare le armi d'assedio beh diciamo che partiamo di sicuro con qualcosa ok poi il channel può si lo vorrei tenere aperto l'equipaggiamento dovreste avere un qualche tipo di esplosivo o no nell'equipaggiamento normale forse levi no nell'equipaggiamento abbiamo solo olio allora io ho l'olio e basta tecnicamente c'è c'è il kit per wracking scelgo io esattamente il wracking kit contiene contiene esplosivi infatti mi ricordavo che da qualche parte c'è una possibilità senza avere il talento granadir e senza avere gli alchimisti di equipaggiare esplosivi ed effettivamente è wracking kit andando contro un esercito però voi siete il one man army eh ma ci manca red la fin mask ha dato tutto quello che poteva dare l'ha già dato basta non chiedergli altro mi fa il pollice in su dalla barella dall'infermeria ti fa il cenno col pollice in su rosso lo bello è che è entrato in legione ha fatto una missione e poi è andato in pensione ed era la sua prima missione e dopo si fa tre mesi di infermeria lo useremo come fermaporta a skydagger non preoccuparti mettiamo come trave per bloccare il cancello all'orizzontale è più largo che va meglio come fermaporta proprio di peso e giusto intorno dopo circa una mezza giornata e nel frattempo l'enorme lupo sta praticamente passeggiando nervosamente ai limiti di quella che è la vostra carovana non avete aperto il campo ovviamente si tiene a tipo una quindicina di metri di distanza e vi guarda vi guarda come se foste cibo torna il chosen e torna non vedete come sostanzialmente se è volato via se se ne è andato in forma animale se si è allontanato nel bosco torna dopo svariate ore e vedete che in mano ha un un fascio delle sue lance di legno Agaro si fa impennare il cavallo e alza il battlefield banner che ha così guardando il chosen con le sue lance di legna questi mezzi da guerra arcaici però si ricorda anche come è stata colpita da una di queste lancia di legna dopo che un nemico l'ha staccata dal proprio corpo e l'ha rigettata contro di noi speriamo che questa volta ah giusto è proprio lei sono i cerchi che si chiudono questi bene bene si salda bene la maschera che la maschera in questo caso fa parte dell'elmo dunque andiamo alla guerra vediamo tutti io sto aspettando voi ciao però ti ringaggio a meno che non c'era altro da decidere no quindi chi è a comando della legione chi è a comando della missione Garossi la marchesa Adriana Garossi presente fantastico marcia le domande stanno comunque a te se non mi sbaglio giusto ok piglio allora ogni tanto vi faccio un'interrogazione sorpresa così sei tu che mi cambi le abitudini così all'improvviso lo so perché ogni tanto le faccio io però ogni tanto dico sì però il marcia dovrebbe essere sul pezzo aspetta che allora sono tutti fedeli alla legione sì assolutamente sì il comandante spende intel il comandante vi dice che di intel non ne abbiamo quindi se volesse quindi sta ceppa sono tutti specialisti o soldati no aspetta sì no si calcola la squadra ah ah no ok se la squadra include qualche non prende scusa mi sto efficientando qualcuno ha sfiducia verso il capitano e mancano gli specialisti no nessuna sfiducia in questa squadra no nei lion non c'è spazio per la sfiducia solo per i batti becchi dopodiché per le assault abbiamo black shot grazie al quarto amastro sì qualcuno è ferito no quindi abbiamo uno due dadi freschi freschi sì domanda i cavalli valgono come qualcosa o semplicemente li scalo no i cavalli li scali perché sono richiesti dalla missione come come dire come enabler se non li avessi sarebbe proprio un problema fare la missione ok è bello che il manuale non ti dice cosa vuol dire però sicuramente avreste come minimo un malus all'ingaggio e partire perché il problema adesso per il problema di fiction per cui vi servono i cavalli è che prima di arrivare al vostro bersaglio avete una buona fetta di territorio scoperto da attraversare e quindi dovete riuscire a muovervi muovervi abbastanza velocemente non potete come dire partire come squadra e percorrere quei due chilometri di terreno scoperto per arrivare al campo sì sì o meglio potete farlo ma sarebbe tutto un altro ordine di rischio no quindi sia per entrare che poi per ripiegare e come dire agganciarvi a quelle che sono le retrovie della legione che sta si spera nel frattempo entrando a Calisco vi serve potervi muovere velocemente considerate che dopo è scontato che come dire abbiate avuto modo probabilmente o con o con una missione sulla lista di qualche infiltratore o cose del genere di accordare in qualche modo il vostro ingresso in Calisco forse anche solo magari con un paio di lanci di bandiera e cose così loro sanno che voi siete lì fuori non hanno i dettagli del modo in cui volete entrare però nel momento in cui voi vi presenterete verso la porta che ne so nord orientale loro sapete che sono risposte ad aprirvi sì abbiamo prestabilito che le comunicazioni le si fa anche attraverso i luminogeni di notte e cose del genere sì 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 diciamo che dopo scontato che non state facendo tutto questo ambaradan a sbalzo voi avete certezza che se riuscite a sgomberare la situazione dall'esterno dall'interno c'è chi vi dà una mano ecco giusto per far quadrare il fatto che non siete sprovveduti non vi buttate in un assalto senza avere un aggancio concreto insomma anche perché far entrare tutta quanta come dire la carovana della legione richiederà tempo dunque vi serve copertura dei bastioni eccetera eccetera ce l'avete quella ce l'avete ed è il motivo per cui alla fin fine l'ingresso della legione non è quella la missione principale voi dovete creare l'occasione per farlo let's do it ho concluso il quartiere mastro grazie alle domande chiudo la scheda I'm ready e allora tiriamo con estrema gioia e allegria 5 è rischioso che è una che è un gran un gran risultato su una missione così impegnativa allora il vostro mi serve ancora una risposta da parte vostra quindi il vostro approccio qual è nel senso vi state avvicinando alla zona delle come dire della costruzione delle armi d'assedio siete a cavallo ditemi che momento della giornata è e ditemi il vostro modo di arrivare devo farlo io come capitano nella missione potete anche concordarlo liberamente potrebbero essere indicazioni che vengono dal commander che hai contrattato con il commander fate voi mi serve solo settare diciamo una scena iniziale su cui voi grazie a questo tiro vi posizionate in posizione rischiosa effetto standard penso sono aperto a input penso l'idea fosse di accordarsi con il chosen lui fa quella famosa o lei fa quella famosa distrazione e noi cavalchiamo dentro dal lato dove sono distratti essenzialmente ok volete io me la vedo tipo siccome è un assalto non è che stiamo a pensare a nasconderci andare di notte o altro e partiamo tipo all'alba facendo anche casino tanto l'obiettivo è attirare l'attenzione con il sole in schiena questo quindi mi serve appunto era una ci avviciniamo con i cavalli però tentiamo comunque se non di essere silenziosi di farci vedere il minimo possibile oppure ci facciamo vedere ma puntiamo a essere abbastanza veloci da prenderli comunque prima che si organizzino sostanzialmente questi sono i due estremi su cui volevo piazzarvi e siete sul ci guarderanno tutti essere più veloci di loro perfetto nel frattempo vi dico cosa fa il chosen dopo di che passiamo a voi dopo di che a intervalli regolari torniamo indietro e tiriamo per render e per il chosen e vediamo come va la loro battaglia sullo sfondo diamo per scontato che la legione non vista riesca a fare si spera quello che deve fare quello che fa il chosen voi non lo vedete non sapete come fa questa cosa ma dagli occhi dei legionari che sono nel convoglio principale e dai vostri occhi che ogni tanto comunque pur fissando l'obiettivo ma sbirciano verso le mura di scalisco in attesa del segnale a un certo punto quello che vedete è sostanzialmente una specie di marea nera traboccare come se fosse un liquido dall'orlo delle mura della città e riversarsi verso fuori è proprio come se fosse il caffè in una tazza troppo piena che esce e scende verso scende dalle mura e comincia a muoversi sulla pianura dalla distanza non avete assolutamente modo di capire cos'è ma a vederlo da vicino è semplicemente una marea di ratti un esercito di fottuti ratti che sta cominciando ad uscire dalla città in numero praticamente infinito e vedete che sostanzialmente si aggrappano ad azzannare a smontare qualsiasi cosa trovino via via come uno sciame di dimensioni infinite questo ricaccia indietro riallontana le fila che assediavano le mura via via indietro di qualche metro e qualche metro e qualche metro man mano queste piccole creature cominciano a scemare sul terreno che prima era terreno di battaglia questo è l'inizio del diversivo voi che vi state a questo punto avvicinando in carica direi che la prima vostra difficoltà è portare in fondo quindi questa carica per posizionarvi sul vostro obiettivo quindi quello che avete davanti è la guardia diciamo che normalmente presidiava questa zona che più che per l'esterno era fatta per tenere d'occhio e tenere in riga tutto quanto il personale umano che era in questa zona quindi tutti quanti gli artigiani eccetera eccetera che erano obbligati a lavorare qui quello che avete davanti sostanzialmente è un paio di manipoli di gaunt con le gaunt quegli umani tutti quanti deformati che si muovono con movimenti ferali tenuti a catena che pattugliano il perimetro di questa zona non ce li avete addosso non sono in non sono in ingaggio ma dovete passarci attraverso per arrivare al cuore della fabbrica ditemi voi come come l'affrontate potete se volete ingaggiarli potete semplicemente tentare di sfilare oltre ed entrare siete più veloci di loro ovviamente a cavallo li distruggiamo o ci tagliamo attraverso cosa facciamo non li distruggiamo adesso dobbiamo distruggerli uscendo ho come idea però in tante sono opzioni loro sono due squadre hai detto sì tecnicamente la zona è comunque molto grande giusto non per dirti che non è così ma per darti l'idea la zona su cui andrete a lavorare è abbastanza estesa quindi se rimanete molto tempo il più possibile a cavallo potreste anche pensare di continuare a come dire schivare l'ingaggio il più possibile e confrontarli solo quando li avete davanti ovvio che se qualcuno si mette a dargli ordini concreti cosa che per adesso non è se avessero ordini precisi e strategici certo che vi chiudono dopo ok stiamo cavalcando Garosi cavalca all'altezza di Korov per quanto loro hanno affetto altrimenti adesso è il momento di essere tosti come di essere duri come il ferro e dunque in realtà lei si comporta come un capitano e lo tratta come un semplicemente un suo affidato immagino che ci sia anche chi riscia ad altezza che cavalca sulla punta di questo triangolo che si sta battendo verso mi immagino la torre e le armi d'assedio e dunque c'è questo momento di cavalcatura ad altezza e lei dice e lei vi pone queste due opzioni o spezziamo o li distruggiamo cioè o ci spezziamo attraverso o ci tagliamo attraverso o li spezziamo adesso così non ci pensiamo più dunque potete non sono insieme sono immaginate che proprio due gruppi quindi puoi anche semplicemente decidere di sfondarne uno e poi allontanarti dall'altro in modo di praticamente asfaltarne uno ad alzo zero e poi ora che gli altri a piedi si muovono per dare rinforzi siete passati oltre quindi avete la gestione del campo per quanto rischiosa avete la gestione di chi ingaggiare o no ok ne vogliamo birillare uno e vedere come va ok si può stare va bene abbassiamo abbassiamo le nostre lanci alziamo i fucili le pistole e andiamo dentro quindi iniziamo il vostro avversario è un avversario che principalmente diciamo fa forza sulla scala sono i numeri che vi creano problemi non tanto la qualità del vostro nemico la si domanda sono un'unità di quelli più resistenti e l'altra di cani giusto? si sostanzialmente diciamo che messi insieme fanno una decina di unità sono tutti quanti di threat 1 e una decina di unità se non mi sbaglio dovrebbe essere una scala 3 ok Garossi ha letteralmente un'arma pesante equipaggiata dunque la bassa la bassa giù la lancia richiamo a cavallo si ok Kirish mette in riga i lions e immagino non so se sia Zarovna a guidare la carica o saranno i lions ti urla di seguirlo una volta che lui si è buttato per primo ci sta qualcun altro ha un'arma pesante? io ho fine heavy weapon che arma è? giusto per capire voglio capire chi ha il banner attaccato all'arma ecco quella con cui siamo stati equipaggiati quindi lancia immagino allora io ho il attello da guerra essenzialmente quello sulla copertina del manuale per chi ce l'ha presente ho capito allora allora Kirish se ti va e tu ha lo standard assolutamente attaccato alla lancia esatto brand new perché viene con l'equipevi lo standard da battaglia dunque lo custodisce Kirish sulla sua lancia direi che apriamo le danze allora avete tutti quanti armi pesanti che sono estremamente efficaci per quasi meglio del blackshot in questo caso perché il vostro il vostro avversario ha armature per la maggior parte i gaunt sono coperti da piastre metalliche che li difendono dal tenero blackshot quindi avete quel che serve siete in quasi una decina quindi siete circa la metà di loro no scusatemi siamo in sette noi affrontiamo solo uno l'altro cioè idealmente affrontiamo un'unità alla volta di nemici infatti mi sono interrotto per quello perché ho detto no aspetta un attimo rifai i conti siete quasi uno a uno fondamentalmente tutta la squadra vostra è equipaggiata comunque con armi di qualità quindi li surclassate per qualità quindi la posizione di base è rischiosa il vostro effetto è great perché li passate in qualità io posso cambiare la scala di una prova che sia in su che in giù dunque che io cambi la scala del nemico la scala nostra non cambia niente nel senso cioè immagino se posso aumento la scala nostra cioè faccio sì che questo questo manipolo per via della formazione che stiamo usando nella quale cavalchiamo in questa carica sia più efficiente ancora e sia disastrosa per il nemico e quindi fondamentalmente adesso contate l'equivalente del doppio dei loro numeri prendete tipo questa formazione a triangolo fatta apposta per spezzarli meccanicamente questo vi porta a rischioso extreme come risultato che potete senza infamia scalare a great controlled ok perfetto il fatto che sia great e non standard ve lo ve lo proporrei come il fatto che voi non rallentate per effetto di questo tiro quindi riuscite nonostante il fatto che vi li ingaggiate e tentate di decimare loro fila riuscite a tenere lo stesso risultato che avreste fatto ad esempio con un tiro di manoeuvre che sarebbe arrivare al primo dei vostri bersagli che poi mi dite voi qual è in realtà che forse è anche l'unico dei vostri bersagli poi mi dite qual è il piano qual è il modo per fare veramente grandi danni qua dentro quindi un tiro per asfaltare loro da posizione controllata effetto great che vi porta anche su quello che è il primo dei vostri bersagli siamo il team d'attacco quasi per eccellenza avete buttato in campo effettivamente roba roba grossa e quindi questa squadra come direi deve solo servirevi per scaldare i muscoli ci sta che riusciate a portarla qui ok va tutti marshal giù le lanci noi la facciamo di skirmish giusto? skirmish non mi ricordo come funziona si può mischiare penso che il tiro sia unico per la squadra dunque ci decidiamo skirmish shoot vreck o quello che vogliamo noi o manuver addirittura a dipendenza di quello che ci concordiamo se li volete ingaggiare e abbiamo tirato in ballo le armi da mischia pesanti questo diciamo definicelo skirmish se no dobbiamo rifare la parte di fiction no no è skirmish allora stavo pensando in generale skirmish dunque io vado di marshal se non sbaglio e gli altri vanno di skirmish allora avevamo deciso su questa questione di marshal nel momento in cui tu conti più come coordinatore degli altri che non per fare la vera e propria azione ti lascio tirare di marshal su un'azione di gruppo ad abilità miste perché questa cosa l'avevamo già discussa ed è venuto fuori che non ne vediamo fuori quindi decidiamo noi considera che non sono in punta a questa carica io sono sul lato ma in punta sta Korov ma infatti secondo me ci sta il tuo scopo è quello e l'azione il tuo effetto sull'azione è di rendere funzionali gli altri opposta in due non ha senso però hai abbastanza gente per lavorare così sul lato destro sta di Korov sta la lancia di di Kirish sul lato sinistro sta coordina cioè noi siamo alla punta del triangolo essenzialmente ci sta vado no e tiro me l'ha detto tiro di Masha io vado di Kirish ci stiamo sei noi siamo controlli great basta che non fallite e non vengono stress no attenzione lead from the front if you lead a group action in combat you may count multiple sixes from different roles as a critical finalmente ce l'abbiamo ok siete a effetto great da posizione controllata avete fatto un successo straordinario e quindi il risultato dell'azione va oltre le vostre aspettative io vi direi che se ovviamente anzi se vuoi dirmi tu officer qual è il l'effetto secondario che vuoi ottenere da questa come dire da questa manovra di battaglia io posso offrirti direttamente se vuoi il fatto di falciare in parte totalmente comunque diciamo non cambia in termini di fiction il fatto che magari ne sopravviano due o tre parte anche della seconda squadra tipo siete talmente veloci e violenti che riusciti a ripiegare e tagliare in parte anche l'altra squadra o altrimenti dimmi tu se hai va bene era quello che ti volevo proporre ah perfetto però non sapevo quanto si poteva a spingerci dunque me l'hai data e mi va benissimo guarda allora sia chiaro io non ho il conteggio di quanti morti sono su questo campo quindi semplicemente diciamo do però per scontato che i due giri di ronda sono distrutti o dispersi il fatto che sopravviva qualcuno non è un problema adesso devono come dire avete semplicemente quelli che sono all'interno del campo perché c'è comunque un presidio interno e qualsiasi altro dovrà venire da fuori penso che appunto l'unità che abbiamo caricato l'abbiamo caricata in maniera pensata ragionata d'altra parte noi veniamo dal limitare della foresta dall'alto essenzialmente abbiamo detto c'è dietro di noi il sole magari non ci hanno neanche visto bene con la distrazione scendiamo come un rombo di tuono a cavallo tutti in questa formazione e lasciare descrivere ai miei compagni cosa succede però ognuno un highlight della vostra come dire uccisione migliore quello che l'highlight della vostra scena di questo combattimento quello che si sente metalloso è un po' attutito ma in realtà si sente comunque con tutto il casino che sta succedendo si sente la voce di Garossi che finalmente può vendicare tutti i morti della legione che c'ha sulla coscienza e si sente per la gloria della legione è abbastanza banale quello che esclama ma diciamo che la carica viene dalla voce che lei riesce a schierare da sotto il suo elmo in questo campo di battaglia caotico scendendo come la morte la carica è tua sei la punta del triangolo io me la vedo che lui è abituato a questo tipo di combattimenti è abituato a ricevere ordini della Garossi questa manovra l'hanno fatta e rifatta per anni solo che normalmente è da solo davanti e questo giro gli si affianca invece Grish tutto bello giovane e pronto a dimostrare il suo valore che addirittura va più veloce di lui lo sorpassa comincia a combattere per primo vediamo Kodov che scuote la testa nel tipo a i giovani sempre così avventati e per bilanciare mostrargli insomma come si fanno le cose tenendo a una mano il suo martello pesante fa un solo colpo essenzialmente a fianco del cavallo da dietro in avanti e come birilli ne butta giù due o tre Dario Grish che finalmente deve come dire può ha tutta la scena su di te ha squadra messa in ordine questa volta non si va a parlare Grish è il soldato perfetto ed è il capitano perfetto per dei Lions che possono arrivare da estrazioni molto diverse ma effettivamente sono addestrati a a combattere come l'unità della legione quindi si un po' troppa foga quello di sicuro ma nel momento in cui effettivamente i cavalli ripiegano e si muovono a seguire la prima carica le lance dei Lions sembrano letteralmente tracciare quella di Kirish con movimenti precisissimi lui si prende lo sfogo nell'abbattere l'ultimo dei morti di questa rapida sequenza vittoriosa di addirittura scendere da cavallo data la posizione scomoda che avrebbe dovuto assumere altrimenti e con entrambe le mani andare a piantare la lancia nel petto e provare a sollevarlo quando anche gli altri vanno a trafiggerlo con gli ultimi colpi c'è questo momento in cui le 5 lance dei Lions anche senza un motivo vero e proprio vanno a perforare e finire il morto il motivo è perché possiamo farlo e abbiamo tempo di farlo mi immagino i due fratelli zemiati urlare come sulle montagne russe assolutamente sì sono al parco giochi la cosa la cosa assurda è che questa cosa succede dentro la seconda unità che ci si mette davanti non è la prima perché la prima l'abbiamo spazzata via basta la seconda è piacere proprio passando violenza poi la seconda ci siamo fermati un attimo a combatterla ma ha durato poco perché abbiamo colpito la parte quella succosa quella quella esposta essenzialmente perché stavano riposizionando probabilmente visto che non si aspettavano che distruggessimo la prima cosa e dunque e dunque siamo circondati da morti che sono che sono più morti di prima sono morti del tutto si spera ok la scena di fronte a voi perché è importante che sappiate più o meno cosa cosa mi sto immaginando e cosa avete davanti immaginatevi baracche perché render costruisce sostanzialmente render organizza e imposta quindi non è che sono tende sono letteralmente questi hanno tirato su le baracche di legno e tutto quanto alcune probabilmente sono adibite ai dormitori per gli schiavi che lavorano qui altre la grossa parte sono probabilmente magazzini di strumenti e macchinari ci sono delle seghe alimentate proprio a forza di braccia con probabilmente tipo delle specie di enormi ruote da criceti e cose così e poi nelle zone come dire negli spiazzi aperti tra queste baracche ci sono le cataste di legna e le armi in costruzione verso il centro di questa di questa area che avrà una ventina di queste baracche è abbastanza grande fate conto 5-6 campi da calcio uno in fianco all'altro e abbastanza espansa con molto spazio tra uno e l'altro proprio perché anche queste macchine poi molto grandi molto incommoranti devono riuscire a manovrare per uscire da qui e per raggiungere finalmente le mura quindi ecco avete linea di vista e viceversa siete molto visibili avete spazio per manovrare al centro circa di questa di questa enorme fabbrica intesa come zona di lavoro c'è quella che è la torre principale che stavano costruendo che adesso sarà alta circa una trentina di metri però è ancora in posizione ok noi scusa come difese vediamo qualcosa gente che gira pattuglie allora adesso come adesso no vedete un vessillo del come dire dell'esercito di Rendar che ancora si fa si fa fregio dei suoi vessilli di quando era un chosen zemiati quindi l'ordine dei cavalieri dei cavalieri neri eccetera ha le sue bandiere quindi vedete una bandiera sventolare in quella che deve essere probabilmente un edificio di comando di tutto questo di tutto questo posto potete presupporre che ci siano delle come dire delle truppe stabili che regolano l'interno del campo di lavoro quella che avete beccato voi erano le pattuglie per evitare che la gente scappasse fondamentalmente ok la zona di comando rispetto alla torre voi siete sul bordo al centro diciamo c'è la torre un po' spostata c'è la zona di comando non coincidono non sono veramente adiacenti l'un all'altra però sono abbastanza vicine tra di loro e entrambe queste cose sono abbastanza lontane da voi adesso domanda però abbiamo i lavoratori vicino le tende dei lavoratori visto che sono lì alla torre a farla da quanto ho capito ci sono tutta una serie di edifici che voi adesso come adesso nella polvere dove siete arrivati potete presumere che siano destinate a queste cose tu non hai idea di dove siano le baracche dei lavoratori eccetera dovresti metterti a cercarle se non altro a scorrere coi cavalli per vedere dove c'è gente e dove invece c'è ci sono magazzini e cose del genere immagino che arriviamo a bomba ancora informazioni poi ci sciogliamo un attimo queste informazioni probabilmente le avete avute dagli scout nel senso che ad esempio voi sapete che lì ci dorme della gente non avete idea del singolo edificio insomma io vorrei vorrei aizzare i lavoratori forzati contro i loro maestri come distrazione siamo in chiaro Antonio non li voglio salvare voglio semplicemente aizzarli contro i loro maestri perché nella mente della Garossi questo si giustifica con è meglio che se riusciamo ad aizzarli è meglio che muoiano in piedi magari con un'arma in mano ribellandosi ai loro torturatori piuttosto che diventare parte delle loro legioni per quello che ti chiedevo se c'era una portata di vista o portata di urlo allora se questo è il tuo obiettivo allora dammi un obiettivo principale se l'obiettivo principale è punto verso il centro del campo questa cosa facciamo un tiro fortuna e vediamo se passi di fronte un assembramento di gente o no se invece tu mi dici ok prendo la prima strada e cominciamo a correre coi cavalli fino a che non troviamo un dormitorio fino a che non troviamo una zona civile e allora lì mi metto a fare il mio discorso allora quello diventa il tuo obiettivo principale lo seguiamo così sai cosa io approfitterai visto che siamo scesi a bomba ma proprio come un fulmine e abbiamo spazzato via le difese questi ancora non sanno che ci siamo possibilmente e dunque dobbiamo approfittare e fare la guerra fulmina dunque dobbiamo andare direttamente e non perdere tempo a interrompere i lavori e distruggere quell'arma d'assedio e dove ci sono i lavori ci saranno anche i lavoratori dunque si prendono due piccioni con una fava perfetto anche perché se poi vuoi fare casino all'interno del campo lo puoi fare anche dopo volendo anzi più casino c'è meglio c'è ok allora considerate che probabilmente vi hanno visto o vi hanno sentito i rumori della battaglia nella la mattina relativamente silenziosa si sentono per come dire per abbastanza spazio nel frattempo si sta levando tutto quanto il rumore dalla dalla zona delle mura che da voi probabilmente dista praticamente un chilometro siete comunque molto lontani dalla zona dell'assedio il vostro obiettivo quindi adesso è arrivare alla macchina d'assedio il più velocemente possibile giusto? si e la fare i danni ok abbiamo l'opportunità ok perfetto volete tirare giù la torre principale? domanda? se ci sembra una cosa possibile direi di sì la cosa più minacciosa in quel campo è quella penso alle mura la cosa più minacciosa è assolutamente quella mi domandavo se volevate prima fare dei diversivi in giro e poi portarvi verso il centro del campo magari sicuramente il vostro bersaglio principale è quella possiamo cavalcando abbiamo dell'olio abbiamo detto giusto? si possiamo incendiare le tende e magari sai le risorse che usano per costruire ma proprio di passaggio senza senza fermarci a fare una cosa dettagliata proprio per far alzare una fumera creare del caos in un angolo del campo mentre noi siamo già nell'altro possiamo fare questo volendo ok questo non come dire non mi dà grossi problemi allora tiro di manuver da posizione assolutamente controllata per vedere quanto tempo ci mettete ad arrivare il ad arrivare nella zona della torre e prepararvi diciamo prendere la posizione per quelle che sono la quella la monomissione che dovete fare sostanzialmente quindi vi immagino che qualcuno dovrà scendere da cavallo e cose del genere quindi arrivare e riuscire a prendere il terreno per poi fare la parte successiva il tiro diciamo fallendolo fallendolo parzialmente probabilmente vi porta in posizione rischiosa quindi semplicemente vi porta sulla scena però mangiate un po' del vostro anticipo su di loro fallendolo misuramente potrebbe darvi complicazioni possiamo farlo di gruppo perché essenzialmente assolutamente sì mi va bene non vogliamo spargerci e fermarci e distribuirci vogliamo andare come vogliamo passarci attraverso comunità sta cosa certo dunque Garossi dice volta la visiera mascherata a Kirish e gli dice terra bruciata come discusso non perdiamo tempo Larinovich se c'è da dar fuoco a qualcosa figurati Larinovich penso che abbiano anche proprio la spartizione dei ruoli quindi uno ha le fiasche con l'olio e l'altra ha tipo le frecce incendiarie esatto io mi immagino Valentina quella che è più portata a dar fuoco alle cose non so per quale motivo sì sì e quell'altro invece no sai cosa quelle tip le otri di creta così quando le lanci si spezzano e poi arriva la freccia e dà fuoco senza fermarsi non possiamo negare ai fratelli Larinovich la possibilità di accendere almeno una delle fiamme con una sigaretta o un sigaro cioè ah ok ci sta bisogna bisogna dargli questa cosa comunque via via questi sono sempre più ex razziatori mongoli e cose del genere assolutamente sì ricordiamo che questi qui erano finiti negli stags cioè è un puro caso ed erano sì aspetta sono finiti negli stags dopo essere dei dei così dei violenti e dei reglietti zemiati cioè esatto cioè gli è stata tutta la scelta preferite essere uccisi sulla forca o finire nella legione nei silver stags assolutamente silver stags giusto per incarare nei zemiati essere un razziatore è una scelta professionale legittima è onorevole e dunque chissà quanto infami erano su questa scena dei clarinovici che urlano e si divertono come bambini al luna park finché portano sconforto vediamo voi quanto riuscite a tenere il vantaggio sulle tempistiche dei vostri avversari perché ci sono i pezzi grossi che si stanno muovendo tipo si stanno divertendo ma non troppo facciamo il tiro dai perché dobbiamo manovrare dobbiamo continuare non rimaniamo fermi it is manuver io tiro con chi la squadra effect standard giusto sì 5 o 6 e nessun fallimento ragazzi vi state comportando benissimo eh ragazzi sto parlando con i dadi un 5 un 5 un 6 comunque abbiamo rischiato il doppio 6 anche questa volta il successo è pulito riuscite ad arrivare sulla zona di costruzione della torre in questo momento taglio di scena è passato qualche istante l'orda dei dei ratti ha cominciato a ingaggiare sostanzialmente l'esercito di render portando ciò che più egli teme ovvero il caos è un'orda disordinata che non segue logica non segue controllo che non ha strategia e questa è appunto la strategia di l'orned one nel frattempo mentre i quadrati perfetti tutti i belli ordinati che vedevate dall'alto cominciano a disordinarsi a disperdersi c'è l'orned one che si fa strada dai limiti del campo cavalcando il questo lupo gigantesco le lance tutte prese a fascio su una mano sta puntando verso il centro dell'accampamento ad aspettarla già uscito dalla tenda e vestito in armatura completa con un spadone che sarebbe comico fondamentalmente nelle mani di qualcun altro per dimensioni ed aspetto letteralmente praticamente un pezzo di acciaio da costruzione largo due spanne e lungo due metri sta render e andiamo a tirare i dati per vedere cosa succede paura comunque render ci dorme in armatura non so secondo me render non se la toglie non se la può togliere cioè è incorporato a sto punto vedendo le cose che fa le sue truppe tiro per lui oddio e fa un critico buco boia tiro per lei e fa un 4-5 ok allora 5 tic sulla clock turn at 1 e lei riesce a riempirne 2 ragazzi dovete essere veloci ok lei cavalca con il con il suo con il suo lupo a un certo punto lascia cadere le lanci a terra il lupo scatta per azzannare render il quale cala cala la lama don red one ovviamente non aveva la ben che minima intenzione di ingaggiarlo infatti stava già cambiando forma tentando di volare via sganciarsi il lupo alla fin fine era solamente un diversivo non era questo l'attacco che lei voleva portare il discorso è che render probabilmente è semplicemente più veloce di quanto lei potesse immaginare nello scattare in avanti chiudere i 5 metri che lei pensava di avere ancora di tempo prima di ingaggiarlo in mischia lui scatta in avanti affonda con la lama taglia letteralmente in due il lupo e con l'arco riesce anche a ferire lei che sta nel frattempo mutando forma e cambiando direzione in quel mentre vedete una delle caviglie di render cadere sottoterra come se la terra sotto i piedi non lo tenesse e fare una smorfia di dolore qualcosa sotto la terra vedete che è sceso praticamente di 40 centimetri fino a metà stinco probabilmente gli sta rodendo le caviglie l'Honored One fa un colpo d'ali e si allontana ferita questo è il primo scontro a voi siete sulla torre principale vedete bene il campo avete linea di vista su quella che è la tenda di comando di questo campo e vedete che in questo mentre sta uscendo una figura dall'edificio è un Earthless quindi queste figure molto grandi e il cecchino l'avrebbe già visto se fosse se fosse qui ha due buchi nel petto e su uno dei due buchi sta una testa mummificata staccata a una delle sue vittime e posta lì come come trofeo si guarda intorno sbraitando ordini non sembra avervi ancora visti e si gira finché qualcuno gli gli porge qualcosa e vedete prendere a catena un hound di dimensioni spropositate sostanzialmente è un hound proporzionato alla dimensione di lui quindi anche questo è grande come un piccolo pony fondamentalmente è sempre la deformazione di un corpo umano ma di dimensioni dimensioni sproporzionate se fosse un umano probabilmente sarebbe alto due metri e passa e con il fisico di un giocatore di rugby è piegato su se stesso a quattro zampe e tenuto con un collare borchiato a catena dall'heartless voi siete ancora in posizione controllata e forse loro non sembrano ancora avervi visti come bersaglio probabilmente dalla lettura veloce che fa il vostro officer stanno pensando ancora di avere un problema sul perimetro ok possiamo fare due cose siamo a portata della torre giusto? ho capito? si siete lì avete preso terreno quindi potete scegliere possiamo attaccare quel bersaglio che ovviamente se ce lo togliamo di mezzo potremmo fare la cosa che dobbiamo fare con più controllo e calma o possiamo fare possiamo bruciare questa torre e vedere quello che succede cosa ne pensate? eh io comincerei a demolire ok perché non abbiamo gente addosso però ok notato Korov Kirish cosa stai pensando? no beh Kirish obbedisce agli ordini quindi Kirish un giorno sarai tu a dare gli ordini cosa stai pensando? beh a seconda di potevamo anche dispensare i lions però a questo punto ha più senso farlo nel momento in cui sia necessario quanto qualcuno di voi ha martial anche lui o qualcosa del genere per guidare attività Kirish ha un martial uno ok qualcuno svei disciplin qualcuno svei o disciplin disciplin uno ok va bene perché stavo pensando se dividere le attenzioni e cercare di ma in verità possiamo fare entrambi ci sono lavoratori umani giusto incatenati e cose del genere corretto? qui in zona comincia a vedere sì ovviamente c'è della gente che nel momento in cui voi arrivate si allontana da quelle che erano le mansioni stavano diligentemente come dire accatastando legna cominciando a segnare i tagli della giornata i due che avete davanti sia Alertless che Lound sono entrambi due threat tre ok allora la Garossi passando avvicinandoci alla torre vede questa gente che anche loro sono sorpresi questi schiavi di vedere degli altri esseri umani non morti non sotto controllo di render insomma armati a cavallo di tutto punto e macchiati con il sangue marcio dei loro torturatori dunque lei si ferma magari andando avanti si ferma da cavallo estrae la sua spada la sua spada insomma la sua spada lunga e taglia magari i legacci di qualcuno che è legato ad un palo qualcosa del genere sì sì ci sta che ci fosse qualcuno che era lì per punizione e per emblema non so questo qua ci manda sorpreso e forse ha anche un po' paura di fare qualsiasi cosa visto come sono bullati dai loro torturatori e fa impennare il cavallo Garossi e dice usate le vostre asce non per tagliare il legno per i vostri crudeli maestri usate il legno che state accatastando non per creare armi d'assedio per il nemico della vita usateli per bruciarli ribellatevi liberatevi a vicenda e lo replica lo dice ancora una volta quello che è giù per terra che è appena liberato gli dice su cosa stai aspettando libera i tuoi compagni e insomma ribellatevi ai vostri soggiogatori di che etnia sono se c'è una maggioranza allora una maggioranza probabilmente è Andermani ci sono poi facce miste che probabilmente vengono da Etanmark sono i prigionieri di Etanmark il resto è gente che è stata tirata su probabilmente da Plainsworth e via andando questo è il giorno del riscatto è il giorno dove assieme alla legione potrete vendicare tutte le ingiustizie che sono state fatte a voi non può fare un discorso più a lungo certo ok tutto lì se vuoi che faccia un tiro this way assolutamente sì questa è una setup action secondo me che può può darti effetto o posizione nel momento in cui amplifica il fatto che sul campo dilaga il caos sì dimmi cosa vuoi allora secondo me è discipline comunque per quanto tu puoi stai lavorando sul fatto di essere evocativo questa è una cosa che loro non vogliono fare certo e quando li spingi contro la loro volontà gli infili un'idea che non è loro con alla fine la forza e la maestrosità della tua posizione secondo me sei comunque in discipline stai usando il guanto di velluto ma comunque loro lo percepiscono come un ordine e non so se qualcun altro vuole partecipare con un aiuto tipo c'è uno standard in giro siamo comunque uomini d'arme con una certa forza e presenza ti direi non so se si complica troppo però farei quasi quasi un setup con consort io invece occhio che un setup basterebbe un aid che a questo punto non lo tiri e giocate a fare come dire polizzato buono polizzato cattivo o meglio generale inflessibile e soldato dal volto umano ok se ti va bene così possiamo mescolare i due approcci meccanicamente resta semplice i tre barton kirish capazia e devesh scendono da cavallo prendendosi proprio la briga di andare a liberare qualche altro legaccio prendere armi magari appoggiate armi prendere attrezzi appoggiati flashback flashback scusami siete scesi da cavallo quando avete combattuto i gaunt e quindi secondo me ci sono a questo punto i fratelli che sorridono e hanno tipo una manciata di armi spade corte accette cose del genere che avevano tirati su dal combattimento precedente e le buttano lì per terra assolutamente mentre i barton passano mano a mano loro invece distribuiscono armi lanciandole da cavallo quindi spendo stress e id all'azione di disini ok è inutile dire che fin che tu fai questo gesto capazia praticamente ha i cuoricini negli occhi perché dice che uomo di gran cuore che è anche perché è proprio l'alba quindi c'è chi riesce illuminato dai raggi sì sì cioè vabbè lasciamo stare è il personaggio dei fumetti esatto l'eroe dei fumetti ok moriranno tutti però a chi se frega certo officer tira per mandare al massacro questa gente ma per un buono scopo cioè per il vostro scopo è un bonus dice giusto che mi dai con l'aiuto ok vado vediamo se funziona o 5 non è male ok è un 5 4 ti do una complicazione si fa avanti uno uno di loro hai l'impressione forse di aver già visto forse no forse è uno un militare di Ethan Mark forse è qualcuno che ha visto a Plainsworth non si sa guarda voi guarda gli altri dice noi faremo il nostro ma se se voi ci porterete con voi dentro Calisco o dove state andando lei gli dice lei fa un sorriso sotto la maschera ed è un sorriso crudele non si vede e cerca di mantenere la voce insomma neutrale e gli dice se sapete tenete il passo e anche per voi saranno aperte le porte di Calisco sto puntando a Sway ma non so se me la dai la complicazione è che la complicazione perché è solo una complicazione e puoi tentare di assorbirla con questa frase è che nella vostra ritirata potreste trovarvi sopravvissuti di questa gente che vi ostacola nel senso che vi chiede di salire a cavallo vi vi blocca la ritirata per dire voi uscite con noi non uscite prima e cose del genere questa è la complicazione puoi tentare di assorbirla dandogli una come dire andando su Sway e dicendogli ok ci troviamo sul lato ovest del campo e non andarci mai più ok e tra l'altro non gli dico una balla nel senso ci passeremo per quel lato del campo andando a Calisco ma se loro non sono presenti ed è difficile che lo saranno non che riescono a procurarsi delle montature per andarci lì ma non li aspetteremo ok fai un tiro di Resolve ok Resolve più 1 giusto addirittura sì più 1 perché avete il più 1 piatto a tutti i tiri di resistenza vediamo cosa succede 6 ed è imparazzante perché è un critico perché è un critico e teoricamente puliresti uno stress e da qui capiamo che brutte persone sono gli office cioè devono esserlo mamma mia il bello è che la morale di della Garossi la leggo perché l'ho scritto la disciplina è l'anima di un esercito rende formidabili i piccoli numeri procura successo ai deboli e stima tutti sì vabbè comunque questo era il tema di inizio campagna poi le cose cambiano ok la disciplina c'è tutta assolutamente il setup è andato bene hai un successo la conseguenza è stata è stata assorbita quest'uomo dal come dire dal nome non e dal nome ignoto e che nessuno saprà mai si organizza comincia a parlare in in Aldarmani chiama a sé qualcuno prende un paio d'armi e comincia a muoversi in mezzo alle baracche ok mentre mentre più in là c'è un incendio comunque sì sì lui si muove in un'altra direzione e comincia a sentire urla in mezzo all'urla umane in mezzo all'accampamento questi cominciano a sistemarsi Gente di ruolo è un podcast indipendente nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo sviluppato e prodotto da me Antonio Rossetti potete rimanere in contatto con questo progetto su facebook instagram e alla mail gente di ruolo chiocciola gmail.com per commentare criticare chiedere e suggerire sarete sempre benvenuti se questo progetto vi piace fatemelo sapere fatelo conoscere date una mano a diffonderlo ma soprattutto fatevi un favore non smettete mai di giocare di giocare di giocare